Sindaco, è di pochi giorni fa la notizia che quest'anno il Matteotti non si correrà, salta la 75esima edizione. È amareggiato il primo cittadino di Pescara? Sì, sono amareggiato, per me è un grande dolore, come penso che il mancato trofeo Matteotti lo sia per tutti i pescaresi abituati ad assistere all'arrivo a Piazza Duca dei ciclisti. Quest'anno non ci sarà, so che l'organizzazione ha avuto dei problemi e quindi ha chiesto di rinviare l'anno prossimo l'appuntamento di quest'anno e noi ci siamo resi disponibili avendo capito che c'era un problema serio e quindi siamo pronti per una tappa dell'anno prossimo che dovrà essere talmente importante da recuperare anche il mancato trofeo di quest'anno e così lavoreremo. So che la Regione aveva già predisposto un finanziamento cospicuo per il trofeo Matteotti, mi auguro che questo finanziamento non venga azzerato ma venga congelato per l'anno prossimo e quei fondi vengono aggiunti altri in modo da fare un trofeo Matteotti di livello altissimo per la gioia dei pescaresi e non solo dei pescaresi. Guardiamo avanti con una prospettiva di un grande trofeo Matteotti per l'anno prossimo. È già successo che il trofeo Matteotti non si svolgesse negli anni precedenti. Nel 2009. Nel 2009 era già successo e quindi non è la prima volta che il trofeo Matteotti salta. Però il fatto che non ci sia per un anno non vuol dire che si perde la posizione di gara ciclistica nazionale e quindi è una rinuncia per tutti quanti noi. L'anno prossimo dovremo fare molto di più.